Ciao a tutte meravigliose creature e benvenute su Life Love TV Allora, come vi ho promesso, vi dico il risultato di questo shampoo che avevo fatto una settimana fa e avevo provato per la prima volta e avevo usato due tuorli d'uovo due cucchiaini di miele il succo di limone e il rum oppure l'acqua a vite, si può mettere il miele è diciamo, come posso dire è facoltativo a me piace molto perché dà dei risultati nutrienti e l'ho messo allora che cosa succede? che devo dare un voto massimo a questo shampoo perché li rende pulitissimi a mia insaputa perché ero molto titubante dicevo ma l'uovo facilmente mi lascerà l'odoraccio invece con l'aggiunta del rumo acqua vite io uso questo che è la casciassa che è un'acqua vite di canna una grappa di canna e mi ha dato veramente dei risultati magnifici in pratica con l'acqua vite non si sente assolutamente l'odore dell'uovo del tuorli d'uovo poi che cosa posso aggiungere? posso aggiungere che è stato facilissimo sciacquarlo proprio come sciacquare un normalissimo shampoo è andato via tutto naturalmente bisogna usare come vi ho detto nel video fra l'altro se non avete visto il video andatelo a vedere tanto ha praticamente lo stesso titolo quindi uova, limone, rum, shampoo fai da te capelli sani, lucidi, nutriti, life love tv andatelo a vedere così c'è tutto il tutorial di come si prepara che è una cosa semplicissima e facilissima potete farlo in pochissimi minuti insomma praticamente dovete spaccare le uova dividere il tuorlo da bianco utilizzare soltanto il tuorlo poi ci mettete il succo di limone spremuto io avevo messo tre uova ma la ricetta ne indica due io ho i capelli abbastanza lunghi quindi comunque ci vuole un pochettino più di prodotto avevo messo anche due il succo di due limoni ma la ricetta ne fa due uova e un succo di limone avevo messo due cucchiaini di miele e praticamente un due cucchiai di grappa allora mescolate il tutto si fa in due minuti veramente ma proprio non ci vuole di più scuotete bene poi lo mettete bene sulle radici dei capelli ma assaggiate ma comunque se andate a vedere il video è tutto spiegato molto bene spero almeno di avere fatto un bel lavorino e basta quindi ho sciacquato è andato via veramente bene poi io ho dovuto fare il balsamo perché come sapete i capelli ricci quindi comunque un po' di balsamo ci vuole sempre poi ultimo risciacquo aceto di mele come sempre vi dico perché è veramente un tocca sana per i capelli con l'acqua fredda ultimo risciacquo con l'aceto di mele con l'acqua fredda e basta sono diventati meravigliosi nel senso che erano quindi prima di tutto morbidissimi che è un risultato molto importante per me perché io come vi ho detto ho i capelli che sono ricci e tendenzialmente crespi tendenzialmente duri anche perché faccio la tinta quindi comunque hanno quel problema lì invece erano sono rimasti proprio morbidi corposi nel senso che io ci mettevo le mani dentro sembrava quasi che ce ne fossero di più quindi quasi volumizzante proprio un bellissimo effetto morbidi morbidi e anche io li ho trovati molto nutriti come se questo effetto crespo diciamo che non c'era più erano proprio morbidi 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 e quindi niente io praticamente questo shampoo l'ho già fatto due volte fra l'altro l'ho già fatto due volte anche perché magari una volta poteva essere una combinazione invece la seconda volta che ho fatto lo shampoo ho usato lo stesso metodo sono diventati veramente meravigliosi sono proprio contenta ve lo consiglio assolutamente quindi vi do un grandissimo bacio e al prossimo video iscrivetevi che siete bravi vero? ciao!